Sono Maggioni Marco, masso fisioterapista di Bergamo. Oggi ho partecipato ad un corso da Biategrasso, indetto da Mectroni Medicale, gestito dalla dottoressa Angela Modio, per l'utilizzo di Dr. Teccar, in qualsiasi tipo di patologia, con l'applicazione della propria terapia manuale applicata appunto a Dr. Teccar. Veramente un gran bel corso, ringrazio il dottor Paolo Citro di Mectroni Medicale e mi raccomando avanti così.